Il coordinatore regionale Ernesto Abaterusso di Liberi Uguali e anche consigliere regionale è un po' l'anima di questa importante campagna elettorale per questa parte della sinistra che vuole rifondare la sinistra e che dice al PD attenzione avete smarrito la via. Sì, purtroppo non lo diciamo soltanto noi, lo dicono i milioni di elettori che in questi anni hanno abbandonato il PD ed il centrosinistra facendogli perdere tutto ciò che c'era da perdere. Si è votato in questi anni in centinaia di città, molte di queste da sempre governate dalla sinistra prima e dal centrosinistra poi Genova, Pistoia, Monfalcone, Budrio, Roma, Torino, insomma tutto ciò che c'era da perdere si è perso e quindi non siamo noi che diciamo attenti. Ce l'hanno detto gli elettori che nel migliore dei casi si sono rifugiati nel non voto, nel peggiore dei casi si sono rifugiati e stanno continuando a farlo nel voto antisistema che è un voto giustificato dalla protesta per ciò che è avvenuto in questi anni in Italia ma che non dà soluzioni. Noi siamo nati per cercare di frenare questo fenomeno e di mantenere una parte del malcontento di queste persone che non si rivedono più nelle politiche portate avanti da Renzi in un progetto, quello di Liberi Uguali, che ha l'idea di far rinascere la sinistra che è condizione propedeutica per un nuovo centrosinistra. Noi guardiamo a ciò che succede anche nel Partito Democratico all'indomani delle elezioni se riescono a liberarsi da questa zavorra che li sta trascinando verso destra e quindi per poter riaprire un discorso che riapra il campo per un nuovo centrosinistra. Attenzione, dobbiamo ripartire dal lavoro che è un po' anche il fondamento della Costituzione, ma come si riparte dal lavoro in un periodo in cui le risorse scarseggiano? No, le risorse non scarseggiano. L'ufficio importante che si occupa di queste questioni per la Banca d'Italia, quindi non un pericoloso estremista, dice che se i 20 miliardi che sono stati spesi durante i tre anni di governo Renzi per i bonus in maniera indiscriminata, pensi che il bonus 18enne lo prende anche Donna Rumba, il portiere del Milan che prende 5 milioni di euro all'anno. Se invece di distribuire in maniera così indiscriminata i bonus, piuttosto che tutte le regalie che sono state fatte per aiutare la campagna elettorale di Renzi per il sì al referendum, invece li avessero dirottati verso un programma di investimenti nel mezzogiorno, dice sempre la Banca d'Italia, quegli investimenti avrebbero prodotto l'1,8 in più di PIL quando il PIL era zero. Ora, quello che noi proponiamo è esattamente questo. Un grande progetto, un piano straordinario di investimenti in opere pubbliche nel mezzogiorno, per esempio per mettere in sicurezza le scuole, per costruire... Che in essiano possiamo... Esatto, esatto, un intervento del pubblico per mettere in sicurezza le scuole, Dio sa quanto ci sia bisogno di questo, per rendere più agevole il trasporto sia su strada sia su gomma, quindi le ferrovie sempre nel mezzogiorno, per un grande piano di attenzione al territorio che frana quotidianamente, se si facesse questo, se ci fosse un piano straordinario di questo tipo di interventi soprattutto nel mezzogiorno, il lavoro verrebbe fuori non solo per i giovani, per la manovalanza semplice, ma anche per i giovani laureati in geologia, i geologi, ingegneri, architetti, insomma a tutte quelle persone che oggi sono costrette, molte di loro, ad andare all'estero perché qui non c'è alcuna possibilità. Non è un libro di sogni, è una cosa che si può fare tranquillamente e basta. Jobs Act e Legge Fornero vanno in cantina? Per quanto ci riguarda sicuramente sì, il Jobs Act è stato dannoso. Renzi vanta il fatto che ci sono 850 mila occupati in più, ma è una falsità clamorosa perché intanto 9 su 10 si tratta di lavori precari. E poi la verità vera è che quei dati dicono anche che sono diminuite le ore lavorative di 1 miliardo e 250 milioni, quindi mettono in conto come nuovi occupati anche quelli che lavorano un'ora a settimana, quelli che fanno stage gratuiti, quelli che fanno stage gratuiti, quelli che vanno a lavorare senza essere ritribuiti. Insomma il Jobs Act per quanto ci riguarda ha sostituito, che voleva combattere la precarietà, ha sostituito la precarietà con lo sfruttamento vero e proprio nei confronti di un'intera generazione. Non parliamo del fatto dei voucher che c'erano prima e che continuano ad esserci oggi, cioè noi abbiamo dato l'illusione, non noi, il governo Renzi, hanno dato l'illusione ai giovani, ai diciottenni, ai ventenni che il lavoro si acquista dal tabaccaio andando a comprare un voucher di 10 euro. È una cosa veramente vergognosa, quella legge deve essere cassata immediatamente perché ne va della dignità del lavoro. Stabilite questo. Dove sono finiti, secondo lei, tutti questi amici con cui avete lottato per anni per le idee di sinistra, perché stanno seguendo così Renzi, anche dopo tutta una serie di problemi che ci sono stati, anche il partito è spaccato in due, perché non sono riusciti a costruire, a creare una mediazione. Io penso per esempio a Teresa Bellanova, vice ministra, Sergio Blasi che oggi si candida pur avendo criticato all'inizio Renzi. Cioè non c'è stato più un dialogo fra voi. Oggi vedo anche Salvemini che comunque è vicino a Stefano, a chi si è candidato col PD. Come lo vede questo atteggiamento? Questo scoprissi anche Michele Emiliano. Non c'è una spiegazione su questo spendersi per la campagna elettorale di Renzi? Guardi, su alcuni non mi voglio esprimere pubblicamente, l'ho fatto in privato. Su una in particolare voglio raccontare un aneddoto. Quando mi dissero che Teresa Bellanova sarebbe stata proposta da Cuperlo, quindi dalla nostra area, eravamo appena all'indomani del congresso Cuperlo-Renzi, io espressi a Cuperlo la mia contrarietà, perché noi l'avevamo battuta qui al congresso provinciale con Salvatore Piconese, avevamo battuto Blasi, Bellanova e tutti quanti. A Cuperlo dissi non lo fare questo passo perché io la conosco bene. Lui non mi ascoltò, anzi ci fu qualcuno molto vicino a me e al Presidente D'Alema che andò a dirle, dice guarda sì Ernesto è così battagliero, però non ti preoccupare, non ci opporremo alla tua nomina a sottosegretaria. Lei si mise a piangere come fa sempre, ogni volta che si prepara un tradimento, lo ha fatto con me anche, si mise a prangere e riferì all'onorevole Massimo Paolucci che allora era deputato in Parlamento e poi dopo è diventato deputato europeo, si mise a piangere e disse riferite al Presidente che io gli sarò grata a vita. Dopo due giorni è diventata la più renziana di tutti. Stiamo parlando di queste persone che hanno interrotto la loro tradizione per una questione di convenienza e che non hanno nulla a che fare con la storia della sinistra, perché la sinistra è fatta di persone che hanno la schiena dritta, che non si svendono e che stanno anche con chi soffre, anzi, soprattutto con chi soffre. Per l'inchiusura di questa intervista vorrei sapere, voi cosa vi aspettate? Che la gente oggi opti per voi, la gente che ha la rabbia e come potreste convincerla? Qual è la cosa che fareste prima, la prima cosa, il primo provvedimento una volta al governo? Sappiamo che oggi la rabbia, secondo anche quello che abbiamo visto in questi giorni, le statistiche, può essere, con la rabbia si possono scegliere determinati movimenti di protesta, addirittura Casa Pound rientra in questo. Allora oggi cos'è che può convincere le persone? Beh, diciamo, cinque anni di governo Renzi e Gentiloni hanno portato esattamente a questo, cioè al fatto che adesso rischiano di prevalere in queste elezioni, altro che voto utile, rischia di prevalere il Movimento 5 Stelle con l'aiuto anche di Casa Pound, hai perfettamente ragione. Noi cerchiamo di frenare, di funzionare da un po' da frenatori verso questa ondata di voto di protesta che riguarda soprattutto il mezzogiorno, anche perché cerchiamo di dire alle persone che il voto dato al Movimento 5 Stelle è un voto giustificato da una protesta sacrosanta ma non si esprime in una proposta per il bene del Paese. Noi vogliamo fare due cose. Una volta in Parlamento, siccome non vincerà nessuno e ci sarà bisogno di un governo in cui ognuno dovrà fare la sua parte, noi diciamo, ognuno nel senso che il Presidente della Repubblica dirà che cosa bisogna fare in Parlamento. Ci sono dei punti su cui si potrà convergere, con un paio per esempio. Noi abbiamo due questioni fondamentali che vogliamo portare all'attenzione del Parlamento e del nuovo governo. Uno riguarda quello che dicevo prima, un piano straordinario per il mezzogiorno di opere pubbliche che dia lavoro, sviluppo. L'altro riguarda l'attenzione alle fasce di povertà. In Italia ci sono in questi anni, si sono raddoppiate, oltre ai 5 milioni di poveri che sono entrati nella fascia di povertà. Entrare nella fascia di povertà e farne parte significa non avere la possibilità di arrivare al pranzo di mezzogiorno, alla colazione, a pagare le bollette, a comprare il latte per i propri figli. E poi ci sono 11 milioni di persone in Italia che non riescono a comprarsi le medicine a causa del ticket o comunque a garantirsi le cure minime per il loro benessere. L'attenzione nostra sarà su queste due tematiche perché noi a queste persone dobbiamo garantire un'esistenza tranquilla. Perfetto, grazie amici dell'incontro e arrivederci al prossimo appuntamento.